Ma sicuramente è un dato della rilevanza del fenomeno perché naturalmente i dati ci confermano una situazione in crescita, ci confermano una grande presenza di giovani, ci confermano una grande attenzione e un grande dinamismo di questo mondo. E naturalmente per noi questo significa avere un'opportunità, poter immaginare che questa forza cresca e pesi e cambi anche il contenuto qualitativo della sua presenza, essendo non, almeno nella nostra prospettiva, un elemento che arriva a posteriori a riparare problemi sociali che si sono prodotti, ma essere un protagonista che all'inizio interviene nella definizione delle dinamiche sociali e delle dinamiche economiche e quindi evita che i problemi si producano. Quindi io credo che ci sia un cambiamento di ottica che per quello che riguarda il governo noi abbiamo intenzione di promuovere attraverso le nostre politiche. Grazie.